Buonasera a tutti, grazie 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 a tutti. Noi siamo a memoria del sottosuono e abbiamo la pretesa di unire, come si faceva un tempo, molto tempo fa, musica e poesia, quindi per questo sarà The Poetry Music Experience che noi abbiamo chiamato la terribile audacia di un momento, l'abbandono, riferendoci al sommo poeta Elliot. Ed è questo che vi auguriamo, un abbandono totale a ciò che vi proponiamo stasera. Grazie a tutti. Non hanno stato potuto dare valore ancora, certi termoni. Le scale saltellando gradini le ore del giorno, si pensa ad arrabbo ai fiori, che sporco dai lavazzari assolati rossi. E qui ciò dicevano, mi ha dato assoluto, mi può dire, l'arrettoio e il museo. Le scale saltellando, mi ha dato assolutamente rossi. E qui ciò dicevano, mi ha dato assolutamente rossi. E qui ciò dicevano, mi ha dato assolutamente rossi. Il cielo si ricurva ed è prima dell'arrivo che le luci compaiono sui contorni. Il cielo si ricorda, mi ha dato assolutamente rossi. Invece del sogno, sacca le camminimenti, a cercare gli amici. E qui ciò dicevano, mi ha dato assolutamente rossi. Invece del sogno, sacca le camminimenti, a cercare gli amici. Oltre la vostra, tutti i bambi della città Vorremmo di sì, un po' con gli occhi scritti Da qualche nato Una stanza, priva di parecchi, che non si Da qualche nato Una stanza, priva di parecchi, che non si Spingersi ai picciati, disinconnati Di la tua azione, altamente opprimenti Un po' con gli occhi 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 Un po' che Un po' che Al marchetto torneranno le altre, un nuovo movimento di idee, ci sono un compiuto di foglie, tutte le sfogliature, fronte, durante, fronte, dopo, l'immutamento del corretto, fronte, alte, soli, stranelli, svegliati, sfarciati. Non importa se l'acqua è sempre lì, si ringrazia sempre con la tua emozione, non importa se l'acqua è sempre lì, si ringrazia sempre con la tua emozione, che mai, 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 alle delle rei. Bravo!